io sono colosi chiarina la cuoca dell'antica trattoria del gallo di clusane di zero oggi vi preparo la tinca ripiena al forno di clusane preparo gli ingredienti pane grattugiato formaggio del sale prezzemolo e spezie le riempiamo mettiamo il nostro ripieno nella tasca della finca diamo una salata anche sopra un po di spezie dell'olio un po di burro la inforniamo a 180 gradi per 40 minuti prepariamo la polenta nel paiolo di rame per un po bisogna lasciarlo cuocere mezz'ora 40 minuti con la quantità della polenta tolgo la tinca dal forno che oramai è pronta e la serviamo con la polenta mettiamo il patino di intindolo il piatto è pronto buon appetito dall'antica trattoria del gallo di clusane buon appetito dall'antica trattoria del maggio